Antonio io ho partecipato a tutte le possibili iniziative politiche che sono sorde a livello popolare sono qui per dire semplicemente due cose sento molto parlare di organizzazioni quindi essendo la prima volta che sono qui non mi sento legittimato a mettere bocca credo semplicemente un fatto che il problema non sia di struttura prima ho detto che quando si crea una struttura fallisce ma io credo che sia il tipo di struttura su cui bisogna riflettere perché una struttura gerarchizzante potrebbe far fallire per il personalismo un altro tipo struttura magari più orizzontale, più partecipativa è una cosa diversa il vero motivo su cui voglio intervenire è questo ho apprezzato appena sono arrivato il primo intervento non so chi è stato che ha parlato che questo movimento è dato come risposta al berlusconismo l'ho apprezzato perché ha detto che il berlusconismo non il berlusconi perché mi dispiace per la rappresentante del PD vabbè per chi è del PD ma il PD è figlio di Berlusconi che qua dentro lo sappiano tutti quanti io credo che non bisogna però perdere la rotta nel senso non è una risposta al berlusconi o al berlusconismo scusami però dovevamo parlare si riferisce alla struttura? io mi riferisco al primo punto l'intervento di senso generale ma io non posso parlare però poi il secondo punto sulle azioni mi dispiace scusami ma le fette Grazie. 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 attacco e farsi notare poi secondo me la seconda fase che dobbiamo affrontare è quella dell'applicazione sul territorio per diventare in qualche modo competiti come progetto come valori rispetto a quello che purtroppo la cultura attuale propone tra l'altro io sono un oppositore se serve o domani anche se ne viola sono fatto un po' così insomma se possiamo invece di organizzare un po' l'arbitro musicale sono disponibili questo è il momento per farlo grazie